L'Italia ha bisogno disperato di energia, però scattano continuamente i comitati nimbi, quelli che dicono no nel mio quartiere, contro tutte le varie possibilità di rigassificatore, dove forse si tira fuori dal mazzo solamente il caso di Ravenna, però anche qua sorge il discorso delle indennizzi per ospitare un impianto. A tra poco sullo Schiacciasassi. Cari amici vicini e lontani, bentornati in una puntata dello Schiacciasassi da parte di Stefano Edena. L'Italia, come si diceva in apertura, ha un disperato bisogno di energia anche per affrontare la diversificazione delle diverse fonti e la strategia che è stata impostata dal governo Draghi, che sta per salutare e lasciare il posto, quello regolarmente eletto dalle elezioni politiche del 25 settembre scorso, ha puntato decisamente sul gas naturale liquefatto GNL che viene importato spesso e volentieri da molto lontano e soprattutto a carissimo prezzo, anche se in questo preciso istante di domanda in calo, per eccesso di offerta, i prezzi stanno ritornando su livelli di normalità. Ma tant'è, il problema forte è che le comunità locali chiamate ad ospitare gli impianti sono sul piede di guerra, perché avanzano tutte le serie di casistiche per dire no nel mio territorio, perché c'è il rischio che esploda, perché c'è il rischio che inquini, perché c'è di tutto. E sì che l'impianto di rigassificazione è uno dei più sicuri, che non utilizza energia, che fa solamente un scambio di calore tra l'acqua del mare e il contenuto del gas che è tenuto a temperature criogeniche a meno 165 gradi per riportarlo allo stato gassoso e di metterlo nei collettori di distribuzione. Però non tutti i luoghi sono ideali, perché serve avere un collettore, un metanodotto vicino da potersi allacciare e soprattutto avere un porto di adeguate dimensioni per poter favorire l'attacco della nave gasiera. Ma il problema è che a Piombino, gestito da un sindaco di Fratelli d'Italia, ha fatto le barricate per dire no, non lo vogliamo, con la scusa che l'emissione in mare di pochi chili di cloro, un sottoprodotto della lavorazione che viene tranquillamente neutralizzato dalla salinità del mare, dice che non si può fare. E poi c'è il rischio che la nave che viene portata per tre anni, in attesa che venga adeguato un molo offshore, lontano tre chilometri dalla costa, dice che c'è il rischio che possa esplodere, che possa danneggiare tutta la comunità di Piombino. Ma poi c'è sempre il problema delle perequazioni, perché le comunità chiamate a ospitare questa realtà vogliono sempre la luna, non si è contento di avere energia, di avere sicurezza, di avere posti di lavoro, vogliono ancora qualcosa di più. E da questo punto di vista è interessante notare che la comunità di Ravenna, che fin da subito ci era detto disponibile a ospitare uno dei tre rigassificatori che Eni ha comprato, adesso pur avendo già sul suo territorio uno dei pochi depositi di gas naturale liquefatto che viene utilizzato per la distribuzione nelle aziende interessate, adesso nonostante che la nave non ha tracchi nel porto ma sia distante sette chilometri dalla costa, dice anche esso che vuole avere per dare l'autorizzazione all'operatività dell'impianto, vuole avere degli indennizi, pari alle tariffe energetiche del gas scontate al 50%. Ma poi anche in Sardegna c'è un suo movimento perché il previsto rigassificatore di porto verme nella vecchia area industriale sta suscitando anche qua l'opposizione da parte dei residenti perché dicono sempre problemi di sicurezza ambientale e quant'altro. Il problema è che in Italia vogliamo avere l'energia, ci lamentiamo tutti se per caso bisogna abbassare di un grado la temperatura che è una cosa ridicola da questo punto di vista o sospendere di una settimana prima e una settimana dopo i dati diciamo di funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Però non si guarda mai a sufficienza quella che è la realtà delle cose che se vogliamo avere il comfort, vogliamo avere la produzione, vogliamo avere l'industria, vogliamo avere l'energia quando clicchiamo su un interruttore bisogna anche predisporre le condizioni perché ciò avvenga e questo bisogna farlo naturalmente assicurando le migliori condizioni operative di tutto quanto. Però questo non può avvenire solamente dicendo no, nel mio comune non sa da fare. Questa è una politica miope e soprattutto rinuncitaria e si spera che da questo punto di vista il nuovo governo abbia la forza sufficiente per poter imporre l'interesse pubblico, l'interesse maggiore dello Stato a tutte le comunità locali perché altrimenti non se ne esce assolutamente. Ma poi c'è anche un'altra cosa che il governo uscente e in particolare il ministro alla transizione ecologica Cingolandi non ha mai tenuto molto ben presente è che se volessimo fare le cose fatte per Benino il gas naturale liquefatto che arriva da molto lontano e che ha anche un impatto ambientale non trascurabile perché ricordiamolo che tra il processo di compressione, trasporto, rigassificazione e rimessa nel tubo del fatto 100% il gas all'origine dal punto diciamo di produzione al punto di consumo dell'emissione nuovamente dentro nel metano adotto ne arriva se no 70 o 65 quando va bene perché ci sono delle perdite energetiche dovute al trasporto, alla compressione, alla creogenerazione e quant'altro. Ebbene tante di queste strutture potrebbero essere anche limitate nell'utilizzo perché il gas naturale liquefatto può essere utilizzato tal quale soprattutto dai processi industriali pensiamo semplicemente alle acceierie o altrimenti anche nell'autotrasporto pesante perché in tantissimi casi si va a creare gas liquefatto proprio liquefando gas che è stato trasportato tramite metanodotto con notevole perdita di carico perché liquefare un gas metano in stato gassoso comporta non pochi problemi dal punto di vista energetico perché serve parecchie energie per poterlo comprimere e soprattutto raffreddare. Da questo punto di vista se avessimo una migliore conoscenza di quelli che sono i processi e soprattutto della logistica e questo bisogna dar merito a una delle società venete che sta investendo sulla logistica del gas liquefatto mettendo in pista qualcosa come 200 autobotti e 200 rimorchi che vengono utilizzati per portare il gas liquefatto tal quale presso i punti di lavorazione presso l'industria le quali hanno anche dei vantaggi notevoli perché il gas viene liquefatto in sede sfruttando il calore e risulta degli impianti e spesso volentieri favorendo col freddo del gas liquefatto anche processi industriali quindi è una logica vincente sotto tutti gli aspetti e soprattutto estremamente meno impattante e meno costosa perché non serve comprare le navi rigassificatrici che sono costate mediamente dai 300 ai 350 milioni di euro ciascuna e che dopo finita questa crisi non si sa cosa andranno a fare bisognerà rivenderle e probabilmente se non ci sarà offerta sufficiente saranno anche svalutate sul mercato dell'usato e si poteva utilizzare una costruzione molto più rapida e molto più efficiente di depositi costieri di gas naturale liquefatto che non sono altro che dei grandi termos dove poter costruire il gas che proviene dalle navi che lo trasportano troppo facile troppo difficile chissà però sarebbe stata una soluzione diciamo così una quadratura del cerchio molto più semplice efficace e probabilmente anche meno impattante sul territorio però il problema fondamentale che qua bisogna sempre ribadire è che le infrastrutture servono vanno fatte pensiamo semplicemente alla questione dell'annosa per l'italia degli termo valorizzatori nome diciamo così bello ecologicamente compatibile per dire l'inceneritore perché della spazzatura una volta fatta una buona raccolta differenziata e anche qua c'è spazio per migliorare ne rimane sempre una parte che deve essere smaltita in maniera diciamo così finale un inceneritore a fiamma oppure anche un combustore pirolitico che non brucia con la fiamma però crea un gas di sintesi per poter trasformare quello che è un rifiuto che dà un problema in una risorsa che produce energia elettrica calore che può essere utilizzato per il teleriscaldamento bisogna pensare come si suol dire globalmente e agire localmente perché altrimenti non si arriva a una soluzione si continuerà ad avere le discariche che ammorbano le falde freatiche e soprattutto danno problemi di gestione dell'igiene pubblica pensiamo solamente quello che accade nelle città dalle grandi come Roma ma anche in realtà ambientalmente corrette come il Trentino da cui parliamo dove c'è un problema fortissimo di gestione dei rifiuti perché le discariche sono esaurite e si stanno abbaloccando su come gestire come realizzare un futuro fase finale del rifiuto che dovrebbe essere un inceneritore pirolitico quindi che lavora senza fiamma anche qua decidere bisogna farle le cose strutture in fretta e anche perché da un rifiuto da un problema nascono delle risorse calore energia gas e quant'altro e questo va a tutto vantaggio della bilancia di pagamenti dell'ambiente e soprattutto anche delle tasche di cittadini che vengono forse meno depauerate di quanto possa accadere adesso cari amici vicini e lontani che questa puntata dello schiacciassassi termina qua prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per darci la forza di andare avanti con questa voce libera autorevole indipendente e parte di stefano reina un saluto e arrivederci alla prossima puntata ciao